Buongiorno, prego, grazie. Buongiorno. Eccoci qua. Ci racconti di lei, perché è qui? Dunque, io mi sono appena laureato in Economia. Ho 34 anni, sono nel mondo del lavoro da 14. Ho un gatto, un ragazzo, adoro viaggiare. Ho due figlie, Matilde e Martina. Ho un badagno già abbastanza bene e volevo sapere cosa offrivate. Il vostro aspetto economico, diciamo così, molto elevato e... È quello il punto fondamentale per me. Come mai è qui? Posso essere sincero? Per i soldi. Ci dica quante ore al giorno sarebbe disposta a lavorare? Dodici. Sarebbero solo due ore in più rispetto a quelle che faccio adesso. Io sono assolutamente disposta a lavorare tanto, a lavorare tante ore se lo stipendio è adeguato. Anche due weekend al mese... Tre, tre, anche tre weekend al mese, senza problemi. Comunica natale, capodanno, sarà gusto, non c'è assolutamente nessun problema per me. Quanti mesi di trasferta potrebbe accettare? Mesi? Diciamo tre? Diciamo quattro o cinque? Tanto lavoro, tanto guadagno. Questo si è. Abbiamo già calcolato i suoi risultati. Ah, addirittura. Queste sono le sue ore di lavoro durante l'anno. Ok. Qui abbiamo le giornate di trasferta fuoricità. Ok. Il suo livello previsto di guadagno. Ah, perfetto. Perfetto. Wow. Quello è il numero che mi piace di più, assolutamente. E questo invece sarebbe... Quelle sono ore libere durante la settimana. Levando le ore di sonno è quello che vi rimane per godervi la vita. Questo è il risultato della sua risposta. In questo video. No. No.